Sabato mattina davanti al comune di Caltanissetta si è svolto un sit-in organizzato dall'associazione Caltanissetta Sicura, guidata dai loro rappresentanti Sergio Cirlinci, Rita Capraro e Adriana Marotta. Il nostro obiettivo è quello di puntare gli occhi sulla sanità locale, poi chiaramente è venuto fuori anche il discorso politico perché in questi giorni è il tema principale. Poi sono venuti fuori tante altre problematiche per quanto riguarda la città, mi ha fatto piacere l'intervento di alcune associazioni che hanno esposto le loro problematiche. Come al solito non c'è stata una grossa affluenza di cittadini perché purtroppo sappiamo che spesso e volentieri non amano partecipare. Però è stato un sit-in abbastanza di qualità per le persone intertenute, i mattini del 20 sono stati molto precisi, puntuali e a noi alla fine interessa questo.